Sperimentare una metodologia di lavoro innovativa finalizzata alla ricerca di un accordo fra i diversi gruppi di stakeholders locali con l'obiettivo di supportare il confronto creativo tra le categorie, autorità locali, operatori, esperti e associazioni, su temi di interesse comune, quali turismo sostenibile, patrimonio culturale, ambiente e territorio e cittadinanza attiva, creando legami sociali ed economici tra le tre città. Queste le finalità del progetto, che si è aperto lo scorso 19 marzo con la realizzazione del primo Info Day, progetto che si concluderà con l'incontro internazionale che si svolgerà dal 26 al 31 maggio, durante il quale Pineto ospiterà una delegazione di 90 rappresentanti delle città partner. È sì un progetto che vuole il partenariato, perché chiaramente in campo europeo, senza questi legami europei, non possiamo poi portare avanti o comunque pensare che un'eventuale programmazione, sia essa sul campo culturale, turistico, soprattutto anche perché Pineto è una città turistica, possa praticamente viaggiare da sola senza un partenariato, come stavo dicendo. Ma fondamentalmente l'invito, gli ospiti che saranno qui alla fine di maggio, porteranno degli elementi in campo, detto culturale, turistico o comunque anche commerciale, di favore nei confronti degli operatori locali. Quindi non è un partenariato a sé finalizzato semplicemente alla progettazione europea, ma è un partenariato che apre delle prospettive, degli scenari che ovviamente bisogna saper cogliere. Su questa premessa, su questo scenario c'è appunto il workshop, nel senso che oggi sono stati invitati degli operatori, degli esponenti delle varie categorie, i quali hanno già in camera da tempo, ne hanno già parlato appunto nei loro tavoli, che vengono appunto tirati su settimanalmente, hanno delle idee che vogliono confrontare con questi esponenti appartenenti alle città e confrontarsi poi a fine maggio con gli stessi esponenti, che ne sono rappresentanti della Camera di Commercio, oppure in questo caso anche esponenti regionali di queste località, non solo appunto limitati circoscritti al Comune.